Non vi è alcun dubbio che i prossimi giorni saranno determinanti per il futuro del molino sociale di Sansepolcro e di tutto il personale in esso occupato. L'ottimo lavoro, svolto sin oggi dai commissari giudiziali, dovrà trovare a breve reale concretezza nell'indirizzo che questi daranno al giudice del Tribunale di Arezzo, che poi sarà chiamato a decidere proprio sulla base delle loro indicazioni. Questo è quanto si legge in una lettera inviata agli organi di informazione dai lavoratori del molino sociale e dalla FLAI ai candidati a sindaco. I dipendenti fanno appello ai commissari giudiziali affinché le diverse offerte di acquisizione del molino oggi sul tavolo siano valutate e non solo ed esclusivamente per la loro entità economica, ma anche per quanto queste sono concretamente capaci di garantire il futuro del molino stesso. Tutto il personale oggi occupato e gli investimenti indispensabili per i lavoratori nessuno può permettersi oggi di ripetere gli errori del passato e considerare la possibilità che si possano perdere altri posti di lavoro in Valtiberina, né tantomeno che questo avvenga nel silenzio più assoluto. I dipendenti infine non vogliono neppure che l'avvertenza sia usata per fini propagandistici ed elettorali, ma casomai come l'occasione per la politica e le istituzioni di condividere e sostenere le preoccupazioni per il loro futuro. La FLAI CGL di Arezzo, unitamente al personale del molino sociale che dal febbraio scorso è stato posto ed è tuttora in cassa integrazione guadagni straordinaria, lanciano l'appello affinché la politica tutta e i cinque candidati a sindaco per Sansepolcro, le istituzioni locali superino ogni eventuale pregiudizio di campanile e non li lasciano soli a combattere la loro battaglia.